ciao traders siete su scalping the bull nuovo crollo di bitcoin siamo a meno 9,75 sulle ultime h24 e 1 2 3 4 5 candele rosse di seguito anche se ci sono queste che si potrebbero considerare rosse siamo a 7 più questo 8 quindi praticamente si scende basta la cinque giorni lema 5 sta facendo perfettamente da resistenza e siamo arrivati a questa linea blu l'ultimo video del crollo ho detto dove potrebbe arrivare dove potrebbe trovare una base era proprio questa linea qua che adesso sta proprio di cui si sta appoggiando ha buccato e sta appoggiando quindi oggi si potrebbe rimbalzare vedremo l'unica cosa interessante sarebbe scoprire se qua effettivamente Elon Musk ha tolto dalle scatole bitcoin sarebbe meglio per tutti credo che a questo punto questa discesa l'abbia fatto per quello perché insomma mercati azionari non è che stanno crollando è proprio una cosa legato solo le cripto quindi se Musk avesse scaricato tutti i suoi bitcoin saremmo a posto e vedremo ovviamente queste cose si scoprono solo dopo lui ha detto di no ma non è molto affidabile ultimamente se non l'avesse fatto invece non è proprio il massimo perché si potrebbe potrebbe continuare insomma per adesso comunque potrebbe esserci un rimbalzo dopo questo crollo qua vedremo se tiene questo supporto o meno e andiamo a vedere gli altri anche ethereum ormai ci sta avvicinando alla 60 quindi non ha tenuto ethereum all'inizio si diceva che appunto bitcoin sta crollando da prima all'inizio ethereum ha tenuto quindi si diceva che c'era il passaggio ethereum bitcoin e ethereum invece sta andando giù praticamente uguale meno 10 però a meno questo a meno ethereum ha un trend comunque positivo finché siamo sopra il 60 un trend positivo e bitcoin invece siamo sotto quindi trend negativo bnb oggi brutta candela sotto la 60 però potrebbe fare potrebbe essere una finta quindi occhio bnb che potrebbe ritornare sopra vedremo quindi per un rimbalzo bnb non sarebbe male ad a non sta più tenendo quindi va giù ma trend ampiamente positivo chi sta tenendo invece ripple xrp sta tenendo da dio nonostante i crolli ultimamente ricordiamo bitcoin xrp ripul sta tenendo da dio invece sta facendo proprio una base per salire quindi è ottimo ottimo ripple gran forza gran bella forza e questo è interessante che comunque c'è chi nonostante i crolli sta creando una base per salire ok ripple fra cui è anche di quelli belli pesanti quindi andiamo a creare magari a distribuire meglio l'indice quindi ottimo segno questo dodge scende oggi è fatto una candela un po più lunga gli altri giorni invece aveva tenuto benissimo però il trend è nettamente ancora rialzista incredibile mi sta mostrando una forza pazzesca e fill invece continua a scendere cadeline piccole quindi non è che abbia tutta sta forza a scendere però comunque è brutto è tornato indietro di tanto qua ha trovato sta base quindi ormai ci siamo qua aveva già già con lo spike aveva trovato questa base qua e adesso bene o male ci siamo quindi questo potrebbe essere tornare qua 88 26 e chi è che va su oggi e chi è che va su oggi c'è l'er oggi proprio ieri ho detto ok cos'è bitcoin crolla bene andiamo su e oggi candela nuova sta comunque andando su non male a tenere d'occhio perché con un rimbalzo di bitcoin questo potrebbe scendere ok quindi questo sarebbe ottimo per andare short vedremo spesso è così quando tu hai qualcosa quindi l'indice sta crollando c'è qualcosa che sale se poi quello che è crollato cioè l'indice rimbalza chi è salito potrebbe scendere ok quindi potrebbe fare il contrario almeno che appunto non ci sia un discorso di notizia eccetera allora magari magari no però credo che in questo caso sia proprio abbiamo trovato un qualcosa per salire mentre bitcoin scende se dovesse rimbalzare questo dovrebbe scendere vedremo allora andiamo a vedere nel nell'intraday cosa sta facendo bitcoin che adesso in realtà in realtà sembra stia trovando la base ok fantastica un minuto attorno a questa base 41.000 41.000 si va a rimbalzare evidentemente interessante un ingresso a 5 minuti siamo schiacciatissimi andiamo a vedere il nostro indicatore migliore che è il 30 minuti siamo molto lontani quindi nel caso di un rimbalzo tenete sempre d'occhio la 30 ok quando andrà a toccare la 30 probabilmente è un momento per tornare di nuovo short la prima volta perlomeno sarà così quindi tenetelo d'occhio quindi la prima volta che tocca la 60 probabilmente c'è da andare short se ci va la seconda possiamo anche pensare di andare long però c'è tanto spazio quindi un bel rimbalzo è bello quando sono i crolli se si inizia a rimbalzare fino alla 30 c'è fino alla 60 c'è tanto tanto spazio bene video breve ma intenso insomma qua siamo alle solite quindi bitcoin potrebbe aver trovato la sua base e da qua si potrebbe rimbalzare vedremo ciao traders iscrivetevi al canale iscrivetevi a telegram e alla prossima ciao 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 ciao